Ancora una volta Calcio Wisp fa rima con solidarietà. Sabato scorso infatti il campo sportivo Oliveri di Campoliguro ha ospitato la Valley Cup 2012, l'attesissimo derby benefico di Calcio 11 della Vallestura, che ha visto scendere in campo le formazioni amatori della Campese contro la Rossiglione. In campo, diretti in modo impeccabile dalla terna arbitrale Wispina, con il centrale Cuda coadiuvato dagli assistenti Loredana De Cesare e Sonia Marrè, si sono misurate le intere rose delle due squadre. Sono stati infatti quasi 50 giocatori che non hanno voluto mancare all'appuntamento tra i draghi verde-blu di casa, secondo i classificati al primo anno del campionato del lavoratore a due genovese, e gli ospiti delle furie rosse di Rossiglione affezionati della Lega Calcio Alessandrina. Sull'erba dell'Oliviera è stata partita vera, con un sano campanilismo mai nascosto, gara dagli alti valori agonistici, ma sempre corretta per tutti i 90 minuti che si sono conclusi 0-0. È stata poi soltanto la lotteria dei calci di rigore, aperta dalla segnatura del capitano campese Davide Chericoni, vero simbolo della passione per il calcio e dello stare insieme del team allenato da Nildo Biato, a scrivere nell'albo d'oro il nome della Rossiglione di Francesco Ferrando. 5-4 il risultato finale di fronte a oltre 300 spettatori di ogni età che non hanno fatto mai mancare il loro tifo da stadio. Ma l'esito agonistico è passato presto in secondo piano. La manifestazione infatti era stata organizzata con l'obiettivo primario di raccogliere fondi da destinare al progetto Pensiero, promosso dall'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma, una delle forme di tumore che con più frequenza si sviluppa nei bambini da 0 a 5 anni d'età. Al termine dell'incontro, dopo la premiazione dei vincitori, la festa è proseguita con il rinfresco e il brindisi del fair play, con la somma di ben 2.500 euro consegnata ai volontari dell'Onlus, operante presso l'ospedale pediatrico Giannina Gaslini.